Ciao ragazzi, sono Mila e benvenuti in buccia la mia prima video Allora, oggi sono qui con degli ospiti di Storia, Bonni e Totti E il video di oggi sarà una e mai, vi ho chiesto di volerci un post su Instagram, delle domande Ora risponderemo a quelle domande lì Se non mi seguite su Instagram, andate via Se non mi seguite su Instagram Andatemi a seguire E iniziamo col video Comunque vorrei far notare il fatto che sono tutti seduti, io sono in questo spazio Ma che cosa ti ha fatto il pantalone? Eh, mi sono sporcato col ketchup La prima domanda è Hai mai baciato qualcuno pensando ad un'altra persona? Sempre Sì, tipo ogni giorno Sì, ma davvero Tanto di volte Ma sei schifo Ma che braga perché esce la faccia stampata mentre baciano altre persone Ma come no? Quella è in televisione però Almeno sì È fatta di qualche sostanza È capitato Io sincero no Ma no, non si è nero Anche una volta è capitato che nel mentre Ho pensato Cioè, stavo pensando ad un'altra Perché ero sopra a pensire Quindi è venuta in mente la faccia di un'altra persona Però Io proprio volontariamente Ah, tu volontariamente? Che dire? No, io tipo che magari Io ho capito nel senso che magari è una classe per una tipa e te ne fai un'altra Esatto E cerchi di pensare a quella lì No, no, no Pensi Ovviamente nel troppo a tipo penso a la tipa che sto bacando Eh, la domanda è mai piaciuto a qualcuno? A proprio nel momento è no Se tu baci una tipa però pensi un'altra Volontariamente Se no bacio uno con la barba penso a una tipa io è uguale Vabbè sì comunque Ah, vabbè schifo, vergognoso, schifosa Tu banni? Ah, vabbè, si può dare No, il mio email sarebbe Hai mai baciato qualcuno? No, comunque no Hai mai provato qualcosa per frasino? Allora, io a Dio è verità? Per cos'è con frasino? No Sì Dai, io Non lo conosco Hai mai risposto male a un professore? Ogni giorno della mia bucciuta vita Sì, ragazzi Madonna Io sono sospeso due volte, bocciato una volta, arrestato un paio Ecco, mi avevo che metti un video, un'idea per un video Io che faccio lo storicame di come c'è stata sospesa Dai, un nuovo idea per un video Comunque sì, è capitato Per restare un po' in pressiva No, io ho le medie Non mi fa una storia di te, grazie di te, tu è un culo Mi sorella, mi cugina Camilla, mio padre Hai mai baciato uno più piccolo di te? Sì Uno? Uno? Vabbè, per voi una Bonnie, Bonnie è più piccolo di me Quindi è vero, loro si sono baciati Comunque allora, io nella mia etica, mai con i più piccoli, sempre più grandi Solo una volta è capitato in America Cioè, sono i più grandi, cioè io non vado con i più piccoli Perché io sono Camilla de Pan Io sinceramente sì Ma secondo te, cioè, figa Stai bella Hai mai baciato tutti? Sì Sono baciato? Poi ci sarà un pop-up della foto loro Letteralmente è tutti sì, tranne io Ho scolto gli unghi dei piedi con la bocca Rai, che schifo Da bambino sì Da bambino inizia Sì, bambino sì Sì, bambino sì Sì, fai gli delimiti che sapevo mettermi i piedi in bocca No, io non mi fa Da bambino in bocca Sei, mi sapevo Cioè, però Sopri mettermi i piedi in bocca? Sì Veramente? Sì, non in bocca, però io ti arrivavo così via la bocca Dai, fallo Da bambino inizia tipo la settimana scorsa Da bambino Io ti arrivo con i piedi in bocca Io ci arrivavo, adesso non lo so Fai vedere? Ecco, non mi necco le scarto Però ci arrivi Aspetta, voglio vedere se finisco ancora anch'io Ma se c'hai l'artruti Sì che ti arrivi? Sì Ah no, sì Io potremmo di far più fatica Momento fetiche Mi faccio le mie Sì Sto gelando la Basta Non riuscirei mai più a farti Ma me ne vado io Ma che ne? Ma che ne? Ma cosa stai dicendo? Mai o mai? A me si è successo tipo che Entrasse in camera Ne ho beccato la città in mutagno Che mi stava divestando No, mi fa bene o no A gelo Mia mamma una volta Hai mai fatto test Ficcino in mare? No No Sì Come sì? In piscina In mare? In piscina no C'è un po' grave No Invece anche in piscina Però era una piscina privata Fatto la cacca per strada Sì raga Sì Dai da piccoli in autostrada Che vostro padre tipo accostava in quelle robe No Sempre i bivoli No aspetta No aspetta Come in autostrada Io gli per strada nei boschi Ah bene I boschi anche I boschi sì No raga Io una volta stavo facendo un viaggio Tipo di 12 ore in macchina Mi stavo cagando adosso E cagate in autostrada Ma veramente Ma tu pensi che Lei Tu è in autostrada E' una strada Sì Era mio Hai mai baciato due ragazzi diversi nello stesso giorno? Sì 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 No Sì Io pure ragazzi Sì ragazzi che ragazze Allora E quindi la mononucleosi Madonna davvero tutti ammalati Hai mai pensato di diventare trans? Cambiare testo? No Sì Raga io quando ero piccola Ma mia mamma settimane io voleva essere un maschio Cioè io proprio volevo È vero? Io raga io ho mai guardato Barbie Giocato con i bambolotti Io avevo tutti i trans Ah ok Quindi se sei un maschio non puoi No 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 Stai testa Brava Brava Tutti le donne Uè bo Uè bo Ti piaceva un batto Avevo tipo il loro logio di ventenne Quello che proiettava le robe È bellissima raga Volevo un batto di strumento Io maschio non l'ho mai avuto Prima di un tigellino E farla di un tigellino Poi il tigellino Poi il tigello grande no Poi inizia da 3.000 Inizia a fare sciopi Un tigello è piccolo Fare sciopi Inizia a fare sciopi No Ma hai baciato in bocca La tua migliore amica Sì 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 Migliore amico o migliore amica No la migliore amica Migliore amica era Che migliore amica Non lo so No no Ma sei rimasto in maniera forte Forse la parte sua no Hai mai pensato Che mi potrebbe piacere Alberto Totti Ma guau Davamente Durante queste notate Che sto passando Con lui Un penteoino Preno Hai mai balzato a scuola A scira No Sì Giuro io no Ma che ditta Io no Mamma se stai guardando Io non avevo motivo Di balzare a scuola Mi faccio senso Se il pedalato un po' Anni Cos'è Ho fatto pesce pesce con Totti Hai mai fatto la cacca nel mare Non si può fare Ci ho provato No l'ho fatto Non riuscivo Mi hai cagato dappertutto No Perché io ce l'ho provato Raga io quando ero tic Ci ho provato Me lo stavo facendo sotto Ma era quando ero a mare E a un certo punto Ho provato a cagare Ma tipo la pressione Non mi faceva cagare E la pressione No 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 Voi stai impazziti Ma io no Ma la cacca si scappa Ma no il mare Cristo Dio Ci faccio il bagno Vedo gli stronti che galleggiano Hai mai fatto qualcosa Di cui ti sei pentito Quando eri ubriaco Ho più adito Sì Mi sono ubriacato Oh Ho una vita tristi Dite quello che volete Però no Non c'è mai Manca magari un po' brillo Ok stasera faremo ubriacare boni Hai dei giorni che ti trovo Oggi Facciamo un regaletto Oggi ragazzi Hai mai fatto testo in posti pubblici Cosa si intende per posti pubblici? Posti dove potevano entrare altre persone Dovrei circondato la gente? Circondato no Sì Follia Ma a me è scegliere uno a me Hai mai fatto un sogno strareale Poi ti sei accorto a tirare solo un sogno? Oddio Sempre Stanotte Si t'è svegliato quello che c'è Hai sognato di fare senso? Che s*****o si Ho sognato che Tozzi Adia me lo si è scottato Scusa 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 Ho sognato che Tozzi Mi aveva detto un segreto E dopo io andavo a dire Lui si era incazzato E stavolta che mi sono svegliato faccio Chissà che sei Tozzi ancora incassato Mi faccio Un segreto scusa E poi l'ho capito come un sogno No io mi sei Eh adesso dai Quando sogno Cioè io non Ogni volta che sogno Ma che sia un sogno bello brutto Non capisco se C'è un sogno la realtà Allora io sogno e me li ricordo tutti in realtà Ah in quel momento Penso sempre che c'è la realtà Infatti quando mi sveglio Sarà un incubo Dico mi sei grazie Cioè io sogno molte volte Sì c'è un sogno di persone Però non riesco a capire Se è un sogno oppure no Però me li ricordo la perfezione E allora vai qua Tra i rioli Hai mai avuto una relazione con la ragazza senza amico Ecco questa è bella Ti hai mai fatto il tipo di noto amico? No aspetta Hai mai avuto una relazione con la ragazza senza amico? Io ho l'ex di una mia amica No Non puoi veramente cagare Infatti lo stavo per chiudere la mia amica No per me Se è quello che ti dicevo prima a te Se hai mai avuto qualcosa con uno Cioè proprio Zero Zero Nothing Hai mai rischiato di essere incarcerato? Sì Come si? Ah quella americana? Ah Ma stai su YouTube Hai mai provato a rubare Poi ti hanno scoperto? Sì Altro story time Altro quasi arresto Hai mai fatto questa c***a macchina? No No Sì Sì Anche tipo preliminari Sì Sì Io sì Io sì Io ero sempre con Tozzi Era la stessa macchina Però con due persone diverse Sì Mentre si facevamo il pugnetto Hai mai pensato di avere un bambino? Sì ragazzi Io ne voglio avere tre Il primo voglio che siano maschi Gli altri più voglio che siano gemelli Ma sono femmine Io ne voglio due Maschi No è la stessa così Le voglio due Hai mai avuto una dipendenza? Sì Dal telefono Dal telefono Dalle tue rette Hai mai fatto qualcosa con uno Per noi una più piccola di te? Sì No Qualcosa tipo oltre al basso? Sì Eh no Perché lei non va sotto i 2006 È sempre quello dell'America Va bene ragazzi Questo video finisce qui Spero vi sia piaciuto Lasciate un like Un commento Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Let's go Ascoltate la campanella Vi lascio gli instagram dei signorini nella descrizione Se volete seguirli Ciao Ma chanè Ma chanè Ma chanè Grazie a tutti